Tu che rapporto hai con la solitudine? Con la solitudine abbastanza buono, nel senso che la odio, quindi cerco sempre di non essere solo, però neanche troppo pesante, perché sono abbastanza abituato, i miei genitori lavoravano da piccolino, quindi io stavo tanto in casa da solo, quando andavo ad alimentare le medie, aiuta anche la solitudine, la solitudine fa riflettere, dipende come la prendi, è ovvio se arrivi a una certa età che sei solo, quello mi spaventa, arrivare ad adulto solo mi spaventa.